Tanta delusione tra le righe dei brevi messaggi dei candidati cilentani esclusi dal voto elettorale. Fra tutti in Cilento colpisce la sconfitta di Franco Alfieri, ex sindaco di Agropoli, candidato alla Camera nel Collegio Agropoli, dato per vincitore grazie alla sua storia trentennale di politico ma anche impeccabile trascinatore di gente. I suoi comizi hanno fatto registrare sempre partecipazione in massa in tutte le città del Collegio. Franco Alfieri è arrivato terzo nella sfida e quindi escluso dall'occupare un seggio in Parlamento e il suo è un commento breve che lascia trasparire tanta amarezza. Purtroppo non è andata come speravamo, scrive Alfieri. Mi era chiaro sin dall'inizio che si trattava di una sfida difficile, irta di insidie, tutta in salita. Mi sono battuto come sempre, senza risparmiarmi, cercando di frenare, almeno nel nostro collegio, l'ondata che si stava scagliando contro il centro-sinistra, ma a quanto pare non c'era Baluardo che potesse reggere. Ancora grazie a voi tutti per avermi sostenuto con così grande convinzione ed affetto.